Nel villaggio arabo-musulmano di Abu Ghosh, una decina di chilometri a ovest di Gerusalemme, una comunità benedettina francese abita al piccolo monastero di Santa Maria della Ressurrezione. Stamattina al giardino del monastero ha ospitato 150 pellegrini guidati dal cardinale arcivescovo di Parigi, André Vingtoua. Qual è il significato di questo viaggio? Si tratta di un pellegrinaggio particolarmente importante perché è un cammino volto a onorare la memoria del cardinale Jean-Marie Lustiger nel monastero di Abu Ghosh, che è territorio della Repubblica Francese in Israele, un luogo che si trova proprio nel cuore di un villaggio arabo e dove i monaci non soltanto si dedicano alla vita benedettina di preghiera, ma intrattengono anche relazioni fraterne con gli arabi e con gli ebrei della zona, dunque un luogo particolarmente simbolico. L'evento che ha portato qui i pellegrini francesi è stato infatti l'inaugurazione di un memoriale dedicato al cardinale Arron Jean-Marie Lustiger, predecessore del cardinale Vingtoua sulla cattedra i civescovili parigina. Nato a Parigi nel 1926 in una famiglia ebraica, e convertitosi al cattolicesimo giovanissimo negli anni della persecuzione nazista che lo privò della madre, uccisa da Auschwitz, Lustiger è stato uno dei più impegnati fautori del dialogo interreligioso-ebraico-cristiano. Rappresentanti delle due religioni, tra cui il rabbino David Rosen e il patriarca latino di Gerusalemme Monsignor Fuad Tual, sono intervenuti alla cerimonia odierna, accanto alle autorità civili. Una figura fuori dall'ordinario, quella del cardinale Lustiger, il quale si autodefinì in uno dei suoi scritti. Una provocazione vivente, che obbliga a interrogarsi sulla figura storica del Messia. Aveva questa ricchezza che era un ebraico di sua origine, cristiano con il suo battesimo, ma come lui diceva più di una volta che il cristianesimo è una continuazione continua, logica normale di essere ebraico, ma questa affermazione le ha attirato odio, problemi da parte degli israeliani. Rimane per noi la figura della persona, del prelato che unisce l'ebraismo con il cristianesimo, rimane l'uomo del dialogo, rimane l'uomo della pace. C'è stata una conquista, un successo particolarmente significativo che l'azione del cardinale ha permesso di ottenere. Io non vedo un successo, sono stati problemi, al contrario, quando ho venuto qui, gli ebrei alcuni non l'hanno accettato, anzi hanno buttato sulla sua macchina tomate, verdure, altre cose. No, lui era un motivo di discussione, nessuno poteva essere indifferente a lui, né i cristiani né gli ebrei, però nel fondo uno che ha unito insieme la religione ebraica con la nostra cattolica. Se i rapporti degli ebrei con il cardinale non furono sempre facili, i sentimenti sono cambiati col tempo. Tant'è vero che il memoriale stesso è un'iniziativa ebraica, dovendosi alla volontà del dottor Richard Prasquier, presidente onorario del Consiglio rappresentativo delle istituzioni ebraiche di Francia. La realizzazione è stata affidata a uno dei maggiori studi d'architettura israeliani, l'Efret Kowalski Architects, che ha ideato un'installazione discreta, costituita da piastrelle di ceramica sparse per il giardino. Le piastrelle sono state decorate nel laboratorio dello stesso monastero e riportano pensieri tratti dagli iscritti del cardinale. Non abbiamo voluto creare semplicemente un monumento alla figura del cardinale Lustigier, ma uno spazio di contemplazione per le idee che egli rappresenta, le idee di rispetto, solidarietà e amore. Spero che questo luogo sarà fonte di ispirazione e di piacere per i popoli di questa regione e per i pellegrini che arriveranno in Terra Santa. Il memoriale, ricordando l'impegno di Lustigier, incoraggia a proseguire sulla strada del dialogo interreligioso da lui battuta. Quali sono i passi da compiere per accoglierne l'eredità e proseguire nell'opera? Mi sembra che questo momento che abbiamo vissuto questa mattina insieme, ricordandolo la figura, la vita, l'esempio e l'impegno del cardinale Lustigier, sia molto importante per la comunità cristiana qui, in Terra Santa, per la comunità ebrea e anche per i musulmani, per tutto. Mi sembra davvero che nel cardinale Lustigier noi dobbiamo vedere, direi quasi una figura simbolo. Se noi riflettiamo nella storia della salvezza, è evidente che in ogni momento della storia Dio ci manda dei segni molto forti e ci manda dei profeti. E noi pensiamo che i profeti siano stati solo quelli dell'Antico Testamento. Non è vero, perché l'opera di Dio continua nella storia e Dio manda continuamente dei profeti. E c'è sempre il rischio che i profeti non vengano ascoltati. Io credo che dobbiamo fare molta attenzione a quello che Dio ci ha detto attraverso la vita, le opere e le parole del cardinale Lustigier. La speranza è che il memoriale rimanga, come è stato stamattina, un luogo vivo di incontro e di dialogo, nello spirito che ha improntato l'azione del cardinale Lustigier. Grazie a tutti.